Con Mr. Battista al termine della quinta giornata del campionato di Juniores provinciale, una vittoria importante serviva a dare continuità dopo i tre punti di Rutigliano, missione compiuta? Sì, sicuramente un risultato importante, la continuità va bene, e soprattutto dopo il pareggio in casa contro una bella squadra come i quartieri uniti siamo ritornati ad essere quella squadra che chiedo di essere anche già dall'allenamento e stiamo lavorando soprattutto per una questione di crescita mentale perché è un campionato dove comunque c'è molto equilibrio e quindi lo giocheremo fino alla fine con parecchie squadre. Proprio la gara con i quartieri uniti è una sorta di sfuriata, probabilmente dopo quel primo tempo non bello. Oggi la squadra invece ha interpretato bene la prima frazione, subito due gol, anche tante altre occasioni per chiuderla già nella prima frazione. Sì, e io dico sempre che è molto importante l'approccio alla gara perché se si ha un approccio alla gara, al di là di quello che può essere il risultato finale, diciamo fa sì che un approccio importante dal primo minuto può decidere anche le sorti della gara stessa. Da correggere probabilmente solo quei 10-15 minuti della ripresa dove si è vista un po' la squadra smarrita, è mancato un po' di tranquillità, gestione di palla, forse anche per qualche assenza importante in mezzo al campo. Sì, hai detto bene. Qualcuno diceva, mister, neanche sul 4-1 sei contento. Al di là del risultato, quello che chiedo soprattutto di crescere è sulla gestione della palla, dove lavoriamo molto in settimana. È chiaro che con un uomo in meno loro e noi avendo un uomo in più da sfruttare, dovremmo imparare a gestire meglio la gara, soprattutto quando cominciano a sentirsi un po' i minuti nelle gambe e dovranno essere bravi ragazzi a capire anche che ci sono momenti in cui bisogna gestire la palla per poter innanzitutto rifiatare e cercare anche di trovare i varchi giusti per poter affondare. Certo che un avvio di stagione così importante, magari alla vigilia, all'inizio di stagione, l'avrebbe messo firma sin dall'inizio per cominciare così bene, soprattutto per le tante pedine importanti perse dallo scorso anno. Giocatori che nella passata stagione ricoprivano ruoli carri, in quest'anno non ci sono però. I nuovi innesti uniti alla forza di questo gruppo che pare stia crescendo davvero bene e stanno facendo di queste FBC Juniors prima in classifica con tanti elementi interessanti. Sì, hai detto bene. Ho sempre detto dall'inizio, anche d'accordo con la società, abbiamo avuto ragazzi validi come innesti, abbiamo mantenuto una buona intellegliatura dello scorso anno e sono sicuro che ho un ottimo gruppo di ragazzi che mi segue, che sono sicuro potranno far bene, nonostante, ripeto, le assenze dei vari Agostinacchio, dei vari Tavani, dei vari Lorusso che sono comunque ragazzi fondamentali, giocatori importanti per questo contesto e spero anche lo stesso Avello che oggi ha avuto una contusione, che non sia nulla di grave, diciamo non è dalla nostra parte quest'anno dal punto di vista degli infortuni. Mi auguro di recuperare a breve un po' tutti e di poter avere veramente una rosa ampia di scelta perché ho sempre detto che voglio avere difficoltà di formazione, quindi avere ottimi rincalzi. Devo complimentarmi, volevo sottolineare con quale veramente mentalità e soprattutto umiltà si cala Ieva, un giocatore che fa parte della prima squadra, che è venuto, già questa mi sa che è la seconda o la terza volta che è venuto con noi a mettere un po' di minuti nelle gambe, veramente un ragazzo esemplare, si mette a disposizione del gruppo e mi devo complimentare con lui. Spero che chiunque ragazzo provenga dalla prima squadra, come Juniors, venga con la stessa umiltà e mentalità perché solo così possono crescere loro, mettere i minuti nelle gambe e far crescere anche gli amici di squadra della Juniors. Intanto sabato si va ad Acquaviva, fanalino di coda, naturalmente è una gara da non prendere sotto gamba perché probabilmente sono proprio queste le gare che possono essere le più insidiosi per una squadra che sta facendo così bene, gare che è da vincere per continuare la marcia in classifica. Assolutamente no, io per esperienza dico sempre che sono le partite più difficili proprio perché mentalmente si pensa di affrontare l'ultima in classifica e di andare lì e di aver vinto la partita. Quelle sono le partite che se non si va, come ho già detto prima, con la giusta interpretazione e mentalità di approccio alla partita sicuramente si rischia di raccogliere non solo a livello di punti ma a livello di crescita e di gioco ben poco. Quindi in questa settimana ora ci godiamo la vittoria col Bitetto, il primo posto in classifica e soprattutto da domani penseremo alla gara di Acquaviva dove la prepareremo al meglio e saremo sicuri e consci di affrontarla con la giusta e dovuta interpretazione. Con Dodo Conca al termine della gara Feffre, Bicigravina e Bitetto, quinta giornata del campionato junior S regionale Dodo era importante vincere, dicevamo col mister prima, dopo la vittoria di Rutigliano un'interpretazione di gara perfetta quest'oggi. Sì, oggi abbiamo giocato molto bene, bisognava confermare i risultati quindi continuare la serie di vittorie. Oggi la partita è andata decisamente bene, abbiamo in posto il nostro gioco e dobbiamo cercare di migliorare nella gestione della palla e nella gestione del risultato. Soprattutto questo nuovo campo in erba sintetica di Gravina favorisce le giocate della squadra si vede sin dalle prime battute la squadra non butta mai la palla e questa probabilmente è la vostra forza di quest'anno rispetto allo scorso anno dove eravate nettamente penalizzati dal brutto terreno di gioco. Sì, grazie al campo siamo migliorati perché in questo modo riusciamo a giocare alla palla se fronte palla a terra rispetto all'anno scorso in cui non permetteva soprattutto il gioco. Tu sei nella tua terza stagione con la maniera delle FBC quindi potresti tracciare un mini bilancio tuo personale della tua crescita personale soprattutto della crescita di questo gruppo che anno dopo anno sta facendo meglio sin cui la squadra è prima in classifica quindi un avvio di stagione importante. Sì, dal primo anno ci sono stati netti miglioramenti personalmente ma anche per la squadra infatti con il mister, grazie al mister Uramichile Battista ci ha dato un'identità alla squadra e quindi l'ha migliorata su qualsiasi punto sia sul gioco ma anche mentalmente.